eccoci qua benvenuti a questa nuova rubrica ve l'avevamo promessa ed eccola qua lo sapete come si chiama sta rubrica tu lo sai io no le avventure del fa non amari un po fa nonna le avventure del fa come tutte le rubriche hanno bisogno di una di una sigla vero come la possiamo fare si la pensa pensa un attimo pensa pensa fa così e pensa ma così e pensa fa così e pensa si si pensa 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 le avventure del fa fa ma non mi dici quando quando mi giro così tu parti fa meglio no le avventure del fa quasi manca una nota una donna ma quella sempre le avventure del fa le avventure del fa quindi le avventure del fa ci siamo vai parti 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 quando andava a caricare a civita vecchia quando andava a caricare a civita vecchia le avventure del fa vai allora venivo su da civita vecchia nel mondo romano prima di arrivare a vetermo c'è un pezzo di strada che allora si faceva la strada normale cioè ragazzi non c'era la superstrada non c'era la superstrada era tutta strada normale perché parliamo di 60 anni fa certo 60 anni fa ragazzi facevo montoromano bagnara vabbè comunque la strada era quella ma che è successo veniamo raccontaci un po da bagnara venendo giù era una trada c'era tutto curve una domanda ma a bagnara eri asciutto o no l'amparo subito e poi ma scusa vai di lui era col camione c'erano tutte curve c'erano tutte curve ok io con la macchina in rimorchio camminavo ma c'era una macchina dietro ma non poteva passare eh prima di viterbo questo sempre dietro io come facevo a fermarmi eh mi veniva ferma per far passare tutto curve sono arrivato per prima di viterbo da 300 400 metri 300 prima di viterbo più o meno c'era un pezzo di dritta che saliva e arrivava a viterbo eh questo quando ho finito le curve c'è un pezzo rettellini è passato quando è passato mi ha fatto i corpi oh che ti ha fatto i corpi così mi ha fatto ma dio ha voluto che capirei 300 metri ha trovato il semaforo chiuso e io sono arrivato dietro ho frenato sono sceso sono andato là al fame quel verso che andava per lo sportello lui mi ha messo la sicura non poteva aprire e c'eva il 127 pensa tu al fame quel verso e lui c'era la guardia poco lontano guardia guardia al fame quel verso te do due cazzotti e scarco tutto mi ha fatto quel verso e io te ne avevo la maniglia ma la maniglia non sa prima allora io ho due cazzotti sopra la cappotta e lui guardia 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 la guardia mi diceva dai che va capito che mi ha fatto i corpi perché stia poco lontano facevo quel verso al fame qui guardia 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 e io gli ho detto guardia quel verso che qui tu ti vuoi mangiare che volevi fare sì te le mangio anni balla anni balla voleva mangiare i riti che coccodrino ha fatto verde il semacro ha preso il partito e dove è andato è partito ma dove è andato dove è andato a fanculo io dietro sono salito il tuo camion e sono partito lui con la vettura è giusto via mica l'ho arrivato e quindi secondo voi chi ha ragione scrivetelo qua sotto nei commenti nonno faustino o quello con la macchina ma io avevo ragione io perché che io ho da fare io se la strada era in quel modo che io faccio vabbè potevi farlo passare e come può passare sopra devi fare una piccola dottorati no? sì passa ragazzi questa è la nostra prima avventura del fa ce ne saranno altre vero? eh ci saranno ma ci sono ce ne sono tante ce ne sono ragazzi ce ne sono tante quindi continuate a seguirci vero? eh certo ci seguono? e come non ci seguono? continuate a seguirci e vi aspettiamo qua con le avventure del fa vi aspettiamo qua con le avventure del fa le avventure eh vabbè rifamo vi aspettiamo qua ci aspettiamo qua con le avventure del fa ah bello Bello ciao ragazzi ciao ragazzi